Potente a parola ragazzi, qua Vax, l'ho giomigato, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi un nuovo video Che ragazzi è un video veramente fantasticerrimo Perché infatti oggi sono qui a presentarvi uno squad builder Ma che sarà uno squad builder abbastanza tattico Perché sarà costituito da giocatori che mi avete consigliato voi Perché bene si ragazzi io all'incirca un'oretta, un'oretta e mezza fa Avevo fatto un post sulla pagina facebook dove vi chiedevo appunto che giocatori Aveste voluto che io utilizzassi appunto in questo squad builder E i più richiesti erano due principalmente Il primo era Griezmann secondif e il secondo non so perché era Aguero Quindi ho detto ma noi dobbiamo fare un'ibrida con Griezmann e Aguero Quindi eccoci qua a presentarla Innanzitutto ci tengo a dirvi che ho cambiato modulo ragazzi Prima utilizzavo il 352 poi sono passato al 4334 e ora ho variato proprio sul 41212 Questo perché? Perché ragazzi io voglio trovare il mio modulo Perché venissi ragazzi col 352 col 433 magari delle partite vincevo Ma non è che io mi ci trovassi così tanto Quindi adesso è partita la ricerca del modulo sperduto Spererò di trovare più presto anche se devo dire che con 41212 non mi sto trovando affatto male Anche se esatto ragazzi io avendo Cristiano Ronaldo volevo valorizzarlo e utilizzarlo come esterno e proprio valorizzarlo 0 Quindi è una cosa abbastanza tattica Comunque partiamo subito Allora in porta ho deciso di utilizzare Allora ci tengo subito a dirvi che questa sarà sia un'ibrida tra la Liga BVA con Griezmann e Secondif e la Barclays per Merlin con Aguero Ma io ci ho messo anche una tattica Serie A quindi ragazzi mi sembra un po' una magicata Allora in porta utilizzo Andanovic e ragazzi devo di essere sincero a me non piace neanche lui Non esiste un portiere della Serie A che mi piace è una cosa tremenda Se voi ne conoscete uno abbastanza forte ragazzi vi chiedo fatemi sto favore Scrivetelo nei commenti perché a me Buffon e Andanovic e anche De Santis non mi piacciono affatto Passiamo invece alla difesa allora da una parte utilizzo Giorgione Chiellini Ormai è anche lui uno degli elementi principali dei match squad builder 77 di velocità 86 di difesa 82 di testa è come una bestia L'ho pagato 9700 26 partite un gol però ragazzi vi assicuro è veramente forte Invece come un altro difensore centrale potete usare Ogbonna oppure Cazares Io avendo Ogbonna ho deciso di utilizzare Ogbonna mi è piaciuto Ogbonna ma devo essere sincero Sì e no cioè ho fatto solamente una partita Perché questo giocatore appunto non l'avevo mai utilizzato prima Però mi sembra discretamente buono Passiamo invece ai terzini Allora ragazzi ecco qua che si inizia ad infiltrare ad entrare nel clima ibrida Perché come terzino sinistro utilizzo il terzino sinistro del Real Sociedad Che è della Bella La Bella E ragazzi mi è piaciuto questo giocatore ma sì devo dire discreto Sono stato il primo proprietario però all'asta costa 400 Quindi devo dire che compie il suo ruolo quindi con il 400 che ti li vale Comunque l'ho utilizzato soprattutto o meglio solo per dare doppia intesa a Griezmann Comunque vedrete dopo Invece come terzino anzi no passo dopo il terzino sinistro al terzino destro perché appunto sarà l'altra parte di ibrida Invece come sterno sinistro ovviamente uso il tanto famoso Griezmann second dif E ragazzi vi devo svelare un segreto A me questo giocatore piace un sacco su FIFA come anche nella realtà per me è fortissimo e è un giocatore da stimare ragazzi L'ho pagato 49.500 li vale quei crediti Allora ragazzi io ci ho fatto una partita però in quella partita mi è piaciuto veramente un sacco Mi sono piaciuti i suoi movimenti appunto la sua posizione quindi ragazzi ve lo consiglio alla stragrande Poi anche i suoi worket possono sembrare brutti normale normale ma per un esterno del 4-1-2-2 per me non sono malaccio quindi sbam proprio Passiamo invece al centro campista difensivo centrale Allora utilizzo il magico Paul Pogbang perché ragazzi voi lo sapete Io questo giocatore l'avevo già utilizzato e mi era già piaciuto 5 partite mi ha fatto 0 gol però difende fa il suo ruolo fa il suo compitino i passaggi in i tattici Quindi ve lo consiglio volendo ragazzi si può fare una variazione di questa squadra O variazione sì Potete mettere come centro campista difensivo centrale Matuidi Come i due difensori centrali Marquinhos, Tiago Silva e come il portiere Sirigu In questo modo avrete un'ibrida costituita da Liga BBVA, Ligan e varie classi Premier League Io invece ho preferito utilizzare la Serie A Comunque anche se adesso forse mi viro sulla Ligan perché vi giuro Andanovic è scandaloso Comunque passiamo al terzino destro Allora non è vero sto scherzando perché come attaccante non è vero non utilizzo una Serie A Bensì utilizzo Karim Benzema ragazzi a me lui se vi ricordate all'inizio non mi era piaciuto Ma poi ma poi ragazzi è diventato tanta di quella Robben che non si può nemmeno immaginare 84 di velocità, 82 di tiro, 81 di passaggio, 82 di dribbling, 46 di difese, 76 colpi di testa Ragazzi Benzema è veramente forte soprattutto c'è 8 partite, 6 gol e 5 assist E con ciò ho detto tutto, soprattutto se affiancato da un giocatore molto veloce Con cui magari può fare sponda oppure lui funge anche da torre E' molto bravo nei colpi di testa quindi cosa può fare? Magari voi gli fate un cross questo colpo di testa o fa gol oppure la passa all'altro attaccante Che agile com'è in questo caso Sergio Aguero vi farà un gol esaltante Comunque adesso andremo a vedere l'altra parte della squadra Infatti l'altra parte è costituita da giocatori della parte del Spamer League O meglio da giocatori del City perché saranno tutti i Master City Questo per chi a me piacciono infatti come terzino destro e come esterno destro potete usare chi volete Ovviamente basta che abbiano doppia intesa Comunque io ho utilizzato i giocatori del City perché mi piacciono alla grande loro Infatti come terzino destro utilizzo Zabaletta ragazzi Ero rimasto già entusiasta di come giocava con me Zabaletta Devo dire e riconfermo questa mia tesi Quindi ragazzi ve lo consiglio alla grande Costa veramente poco sui 2000 credit In 20 partite non mi ha fatto nessun gol ma vi assicuro che se lo proverete vi piacerà subiterrimo Esterno destro ragazzi sempre lui Sempre lui Jesus Navas che non so per me è l'esterno destro Che io il migliore esterno destro che io abbia mai provato per adesso su FIFA 14 39 partite 15 gol 14 assist ragazzi 3 cartellini gialli cioè direi ma stiamo scherziamo No comunque ragazzi veramente è fortissimo Io lui ve lo consiglio fatemi sapere se Ecco fatemi sapere se queste mie opinioni rispeccano anche le vostre Comunque Jesus Navas l'ho pagato 29.000 ma adesso ne costerà 15 se non sbaglio E ragazzi gli vale tutti i crediti Anche se ne costasse 40 li vale li vale li vale Passiamo invece al centrocampista offensivo centrale Che infatti è Nasdri Che utilizzo Nasdri Ragazzi Nasdri te l'avevo già detto Mi era piaciuto e mi è piaciuto Riconfermo anche qua la mia tesi o la mia ipotesi Ora non mi ricordo più come si dica 12 partite 2 gol e 5 assist Un cartellino giallo Cioè non so se rendo Comunque ragazzi lui è veramente forte Potete usare anche Yo-Yo Jovetic Iiii Normale Che anche lui non è male come Ciuci Io tra i due preferisco Nasdri Perché è un centrocampista un po' più di ruolo Però se volete anche variare Non essere appunto i soliti che usano Nasdri Utilizzate Jovetic Che è veramente forte anche lui Passiamo invece all'altro e ultimo attaccante O meglio ultimo giochete di questa squadra Che infatti è Il Kunaguerro ragazzi E vabbè c'è 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 io dico solo c'è una partita Un gol ma io l'avevo già usato Anche nelle sue versioni in forma Second if Normale Ragazzi lui è una bestia 88 di velocità 84 di tiro 73 passaggi 90 di rinning 44 di difesa 70 quel punto di testa Come che chemistry style ragazzi Ho finalizzatore Perché appunto l'ho comprato con quella chemistry style Anche se io vi consiglio Predator Infatti a breve Appena finito il video Io gli andrò a mettere quella Comunque come vedete Centro di intesa Easy easy Ecco adesso mentre vi faccio vedere un attimo i gol Vi spiego un attimo Qual è il pregio di questa squadra Innanzitutto ragazzi È l'attacco ovviamente Perché un attacco formato da Benzema e Aguero È veramente magico Ma soprattutto Qual è Cos'è che penso io Qual è il punto di forza Secondo me di questo attacco È che ragazzi L'attacco è costituito Da un giocatore abbastanza grosso In questo caso Benzema È da uno Un po' più piccolo Perché diciamo Aguero non è grandissimo Però veloce e agile E per me Mettere un giocatore di peso Con una punta di sfondamento Come Benzema E un giocatore stra agile Che fa tanti gol Come Aguero È il top Cioè È la magicità in persona Quindi ragazzi Ve lo consiglio anche voi Magari a volte di pensare A questi accompamenti Cioè ragazzi Ovviamente di fare un attacco Del tipo Ibrahimovic Aguero Solamente come centrocampista Offensivo centrale Bisognava utilizzare È Guidetti Che fa altamente schifo Come C.O.C Quindi se era un po' sto problema Però immaginatevi Uno della stazza di Ibrahimovic Di punta di sfondamento Che è Ibrahimovic Affiancato da Aguero Cioè Una magicata Comunque ragazzi Complimenti Vi volevo ringraziare Per tutti i mi piace Che state mettendo in questi video Per tutti gli iscritti Che stanno arrivando E per i commenti Quindi ragazzi Se volete fare Proprio una cosa magica Che cosa potete fare Potete commentare questo video E mettere un bel mi piace Cerchiamo di arrivare A 1500 mi piace Per questa squadra magica Ibridosa E ricca e sterima Quindi ragazzi Ah no Non ho finito Perché vi volevo Ricordare Di andare a vedere Il mio secondo canale Che si chiama Axel V2 Li introdurrete in alto a destra Oppure in descrizione Che appunto Da due giorni Ho iniziato la serie Pack of the Day Che sta andando Alla grande Non abbiamo ancora trovato Cose magicissime Ma ci accontentiamo Possiamo dire così Non ci stiamo accontentando Quindi ragazzi Mi raccomando Andatelo a vedere Sul mio secondo canale E passate anche Dalla pagina Facebook Che ragazzi Ho raggiunto I 10.000 mi piace Adesso o domani O dopo domani Mi sa che farò un contest Appunto Sulla pagina Facebook Per ringraziare I 10.000 mi piace Siamo a 10.107 Quindi pensate Un po' che magicata E tra poco ragazzi Raggiungeremo anche I 30.000 su YouTube Ecco magari Chiedetemi O meglio Scrivetemi cosa vorreste Vedere per i 30.000 Ragazzi Vi chiedo Magari di scrivere un video Abbastanza diverso Al solito Ecco non chiedetemi un pink pale E poi ragazzi Il video del calcio Che appunto Ha richiesto in tantissimi Adesso non so Se riuscirò a farlo Per i 30.000 Perché Va bene Innanzitutto devo prima Trovarmi con Carmi e Marco Stinci E secondariamente Fa freddo No adesso Sembriamo le cacche di turno Però preferiremmo Farlo con il bel tempo In estate Per fare Per fare anche Vedervi una cosa Uscita alla grande Quindi ragazzi Detto questo Non ho più niente da dire Spero che il video Vi sia piaciuto E detto questo Vi saluto E vi dico potente A parlare Ci sento Nel prossimo video Bolla Non ho più fiato